tutto questo non era propriamente in programma allora mi ritrovo a fare un video che non non pensavo di dover fare semplicemente perché non è nelle mie corde non è nel mio target diciamo che chi guarda il mio canale normalmente vuole parlare vuole dedicarsi a parlare di fotografia di video di post produzione di effetti visivi di montaggio video penso che sia doveroso spendere almeno due parole su quello che sta accadendo è ormai un po di tempo che si sente parlare di questo di questa problematica che sta affliggendo davvero tanto l'italia e finalmente stasera che il 9 marzo il presidente del consiglio italiano ha reso l'italia unita sotto le stesse norme una cosa che io avrei voluto sin dal primo giorno cosa significa che tutti quanti siamo diventati in zona rossa non c'è più chi è meno rosso e chi non è meno rosso il virus non ci sterminerà tutti di sicuro ma di sicuro metterà in crisi sta mettendo in crisi il nostro sistema sanitario cosa molto grave perché non possiamo rischiare di andare in un default sanitario quindi mi sento in dovere anche io di parlare a voi che mi seguite a pochi e quei pochi di voi che mi seguono e di dire che anche io sto a casa anche noi nel mio ufficio dalla nostra società abbiamo deciso prima che naturalmente avvenisse questo perché purtroppo immaginato perché è normale che che accada in italia dove purtroppo siamo delle capre allo sbando non siamo non riusciamo a seguire le regole ed è un vero problema quindi noi per primi abbiamo deciso oggi abbiamo fatto un'erone straordinaria per decidere di rimanere a casa quindi rimanere chiusi e lavorare da casa perché noi abbiamo la fortuna e la possibilità noi che facciamo questo mestiere creativo digitale tecnologico di avere a disposizione tutto quello di cui avevo bisogno luce telecamere microfono qui un portatile un computer lì ce n'è un altro e sono a casa mia non ho necessità di stare in ufficio di dover uscire per forza naturalmente la vita continua continuerà anche dopo questo mese ma facciamo in modo che questo periodo che ci divida dal calo dei contagi in italia passi velocemente e passerà e arriverà questo momento molto più velocemente tutti quanti ascoltiamo e rispettiamo quelle poche regole di buona educazione e di special modo educazione verso le persone più deboli in questo momento che sono gli anziani e le persone con delle patologie pregresse piuttosto gravi quindi è nel loro interesse che noi dobbiamo cercare di starle vicino e di cercare noi di non prendere il virus per cercare di non trasmetterlo a loro quindi facciamoci un regalo e siamo un pochino di più a casa nostra a lavorare a studiare un nuovo programma dai in questo in questo periodo cercherò di tirar fuori qualche video in più così vi ci intratteniamo a vicenda io nel creare contenuti e voi a seguirli cercheremo anche di fare qualche diretta così ci divertiremo insieme e cercherò di darvi qualche spiegazione a qualche software non esistono cittadini serie s e b esistono soltanto italiani in difficoltà sono poche le regole da rispettare rispettiamoli tutti quanti insieme e